Ti posso anche aggiungere che era da molto tempo, da quando avevo 18 anni e me ne ero andato via di casa, che nessuno si occupava di me e di noi, anzi perché insieme a me è stata così, sequestrata anche la mia compagna Dori, nessuno si occupava di me in maniera così diuturna e continua, invocandomi addirittura con i pezzettini di salsiccia o di carne che mi venivano dati attraverso questo buco, di questa maschera, insomma una persona che si occupa di te per 24 ore su 24 è una persona a cui tu dedichi una certa attenzione, come corrispondenza a quella che dedica lui a te.